Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, io sono Millie e io sono Jessie e oggi faremo una partita a questo gioco che non mi ricordo ora come si chiama, mi sembra, si chiama Paper Rio, una cosa del genere, ok allora eccoci qua, siamo dei vermiciattoli bianchi, ok? e lo scopo di questo gioco è di raccogliere più cibo possibile, diventare i più grandi, quindi noi ora siamo diciamo tra i più piccoli diciamo, vabbè abbiamo appena iniziato il gioco direi, ok allora allora allora, e poi ragazzi non dobbiamo toccare gli altri vermi, altrimenti moriamo e anche come si dice, tipo le barre che ci sono per, cioè le estremità, non le dobbiamo toccare. quindi, ok ok abbiamo questa zucca, cos'è la zucca, a me non piace la zucca, oddio ho sconfitto un verbo e sono troppo forte, cioè, ma dai mo l'hai sconfitto, è la prima volta, eh no ma io sono troppo forte, ma non vuoi dire che già sei troppo forte, sì invece perché l'ho sconfitto il verbo e sono troppo forte, ma non vuoi dire, mannaggia, ho sconfitto il verbo e sono troppo forte, come non posso dire dai però, ok allora 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 allora, ecco qui, ok stavo per prendere quest'altro verme, però ce l'abbiamo fatta a non morire, wow, sono troppo forte, ok allora, ho sconfitto un altro verme, sì, sono troppo forte, sono troppo forte, sono troppo forte, lo so, ok ok, eccoci qua, mamma mia ragazzi, questo verme che ho sconfitto è più grande, ma perché poi se lo mangiano pure gli altri, il verme che sconfigo io? Eh, scusa, non lo dovrei mangiare solo io, è mio il verme, ce l'ho sconfitto io, cosa vogliono gli altri da me? Ok, allora, questo verme stava diventando luminoso, secondo me lo posso fare pure io, vabbè, poi si vede Ok, ok ragazzi, meno male che non ho preso questo verme che mi è impassato luminoso, però ok Ok, 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 ok Prendiamo questo pane, che buono il pane, è vero? No, già si è buono il pane, molto, molto buono Ho sconfitto l'altro verme, sono troppo forte Allora, con questo già siamo a due, tre vermi, ho perso il conto Penso tre, sì, siamo a tre vermi che abbiamo sconfitto Anzi, quattro vermi, mamma mia Che bello E questo tizio giallo e blu, ecco, non me l'ha mangiato, perfetto, lo stavo per dire, quindi, ok Ok, allora ragazzi, qua sopra sta scritto raccogli 15 bonus E ho sconfitto un altro verme Raccogli 15 bonus Allora, noi l'abbiamo raccolto solo uno, secondo me E questa sarà, tipo, come si dice, la missione del giorno, ecco qua Sì, e mi hanno sconfitta Ok, siamo rinati, cioè stiamo rinascendo Vedete, mi sto facendo più grande, anche senza mangiare, quindi stiamo rinascendo Significa che stiamo rinascendo, no? Penso proprio di sì Ah, che buono, che buono Dice pure la faccina, dice pure il verme Sì, mi piace davvero Vero, sì, mi piace davvero mangiare, secondo me Molto Dice a me Verme, sconfiggere, basta, ciao Verme, ti sconfiggio Ma cos'è, perché, perché si ha fatto Google? Perché è pazzo È vero Ok, allora, questo verme verde è bruttissimo Quindi, lo dovrei, lo dovrei sconfiggere, ma non ho tempo Perfetto Allora Allora, allora Ecco qui, altro cibo, una bella torta che non manca mai Giustamente I broccoli Non mi piacciono proprio Allora ragazzi, secondo me questa pozione sarà tipo, che sì, il bonus, sono le pozioni bonus Perfetto Abbiamo scoperto un'altra cosa Ok, di nuovo questo verme Cioè, sempre gli stessi verme, però, ok Questo verde Mi piace proprio Lo devo sconfiggere, ciao Mi piace proprio Allora, 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 allora Oddio ragazzi, me l'ho sconfitto Uffi E vabbè ragazzi, rifacciamolo Eh ragazzi, non fa niente, vi facciamo un altro giro Vediamo se ora mi sconfiggono Ok, allora, però Vorrei cambiare il verme Ora vediamo come si fa Ok, vai Ecco, guarda la roba dei vermi Perfetto Allora, allora, allora Quale scegliamo, quale scegliamo Quale scegliamo Questi sono a pagamento Quale scegliamo, quale scegliamo Ci sono tanti colori, sì Alcuni sono con le monete che noi non abbiamo Perché noi abbiamo solo 115 monete E a noi piace questo rosso arancione Che colore è? Non si sa E mettiamo questo rosso arancione Perfetto Ok, allora Ora ragazzi, il mio scopo sarà quello di diventare la più grande Quindi ce la dobbiamo fare, vero Jessie? Sì Tu sei con me? Sì Perfetto Oddio ragazzi, ho scoperto come essere Come diventare luminosi Cioè, praticamente dovete premere Sì, sono luminosi Cioè, tipo, vai veloce Capì? Diventi luminoso Però ok Abbiamo preso un altro bonus Ok, un pezzo di formaggio Una bella torta Ho sconfitto un altro verme Sono troppo forte Sono troppo forte Sono troppo forte Ok, mangiamo questo verme Oh, tizio Perché se non hai mangiato Uffa Che cattivi Sono mangiati il mio verme Non fai niente Il verme che ho ucciso io Ok, ok, ok Allora ragazzi Cioè, stiamo prendendo Qualche bonus Perché non si trovano sempre Però, ok Un altro verme Che non ho ucciso io Però va bene Non lo stiamo mangiando Questo verme Era proprio gigante Oddio ragazzi Sto dai primi dieci E ho sconfitto un altro verme Ah ah Che bello ragazzi Sono ottava Wow Non avrei mai detto Ho sconfitto anche un altro verme Cioè ragazzi Sto diventando fortissima Basta in questo gioco Se volete Se arriviamo A 100 like Farò Un altro video Su questo gioco Perché Sto diventando fortissima Quindi se lo volete Cioè se volete Un altro video Su questo gioco Lo farò Se arriviamo A 100 like Di questo video Ok Oddio ragazzi Sto vicino A quello gigante Mamma mia Ma si muove proprio pianissimo Immagino Beh ragazzi Noi Non diventeremo Mai giganti Quindi Non c'è scampo Vabbè Oddio ragazzi Sono al dodicesimo posto Però non sto Tra i primi dieci E ho sconfitto un altro verme Ma io sto troppo forte Cioè Basta L'ho detto Cioè Sono troppo forte E sto tra i primi dieci No Sto al decimo posto Però Illusioni Beh brava Illusioni ottiche Ok Un altro bonus Abbiamo preso un altro bonus Perfetto Chissà se arriviamo A 15 Chissà se arriviamo A 15 bonus Che ne so io Cioè Cosa ci dà A boh Forse ci fa diventare Più grandi Il tempo Cioè Come si dice Più grandi Più velocemente Così almeno vincere Vinciamo Vabbè Prima avevo preso Un altro bonus Sì dai Ce lo dobbiamo fare Cioè Dobbiamo Vincere Sì dobbiamo vincere E ho sconfitto Un altro verme Penso che questo Sarà tipo Il decimo verme Che sconfitto Altro bonus preso E ho sconfitto Un altro verme Cioè ragazzi Sono troppo forte A sconfiggere il verme Sì No Il bonus Se l'hai preso Questo piccolo Dai Ho sconfitto un altro verme Certo Io sono troppo forte Tutto Tutto Guardate E perché sto tizio Sto tizio mucca Cos'è Una cosa Una mucca Cos'è Se lo stanno Una sigla arancione Sì sì O sei bianco No No ragazzi Non ho sconfitto Tanti stinti Vabbè ragazzi Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Lasciate like Noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao